A partire dalla metà del 1700 si afferma in Francia un nuovo movimento culturale, un nuovo modo di pensare, di concepire la vita e il mondo, l'illuminismo. La scelta del nome non è una scelta a caso. L'illuminismo ci ricorda illuminare, la luce. È la luce che ci permette di vedere bene le cose, quindi è la luce della ragione che può eliminare il buio dell'ignoranza. Già nel secolo precedente, nel 1600, la scienza aveva fatto enormi progressi. Basta pensare a Galileo, alla nascita del metodo scientifico. Molti pensatori, oltre a Galileo, avevano affermato che solo la ragione umana poteva portare alla verità. Quindi comincia ad affermarsi un'idea di sapere laico. Laico, cioè non legato alla religione. Significa che non bisogna prendere per vero, vero nel senso di scientifico, tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia, perché la Bibbia è un libro religioso. La scienza, invece, deve basarsi sull'osservazione, sulla dimostrazione, sullo studio degli avvenimenti sia storici che naturali, e poi supportare le nuove teorie e le con delle prove. Prove che possono essere supportate anche grazie a nuovi strumenti che proprio in questo periodo vengono concepiti e realizzati. Oltretutto il 1500 è stato un secolo insanguinato da guerre molto cruente, fatte proprio in nome di principi e di dogmi religiosi, quindi sicuramente non un grande esempio da seguire. Insomma, siamo in presenza di una ventata di aria nuova. C'è una grande fiducia nell'uomo e nelle sue capacità di ragionare, c'è la convinzione che si debba essere tolleranti nei confronti di tutti i pensieri e quindi c'è un grandissimo desiderio, anzi più che un desiderio, un diritto ad essere felice. La domanda è questa, perché io devo aspettare il paradiso dopo che sarò morto per avere la felicità? È mio diritto di usare tutte le mie capacità, la mia intelligenza, per riuscire ad essere felice anche qui. nella vita terrena. Gli illuministi infatti erano convinti che l'intelligenza umana avrebbe risolto ogni problema e quindi avrebbe fatto progredire la vita di tutti. In che modo? Ma principalmente con l'educazione. La mente delle persone deve essere educata. Bisogna insegnare a tutti a leggere e a scrivere, a elevarsi culturalmente. Se si rimane ignoranti non si potrà mai realizzare nulla, ma se io non realizzo nulla difficilmente potrò essere felice. Allora, chi possiede questi elementi, questi strumenti, di queste capacità, ad esempio gli intellettuali, hanno il dovere di mettersi a disposizione di chi invece è stato meno fortunato. E nello stesso tempo sempre gli intellettuali dovranno anche rivolgersi ai governanti per indicare la strada giusta. Perché l'obiettivo che si vuole raggiungere, cioè la felicità e il benessere, è un obiettivo che riguarda tutti gli uomini, nessuno escluso. E anche questa è una enorme novità rispetto al modo di pensare che fino a qui hai studiato. La società però in cui vivevano gli illuministi era molto diversa da queste idee. C'era un re che governava in modo assoluto, ricordati che l'illuminismo nasce in Francia. Dopo Luigi XIV c'è Luigi XV, che comunque non è da meno. E poi ci sono delle classi sociali che sono molto rigide. Cosa significa rigide? Che chi appartiene a quella classe sociale rimane in quella classe sociale. Non è possibile un cambiamento. C'è il clero con tutti i suoi privilegi e c'è la nobiltà. Clero e nobiltà erano le due classi, i due ordini, i due stati che avevano in mano completamente il potere. Poi c'era la borghesia, che pur essendo la parte più attiva della popolazione, era però esclusa di fatto dal governo. Gli illuministi cosa fanno? Mettono proprio in discussione questo ordine. Loro sostengono che non è un modello stabilito da Dio, ma semplicemente un'invenzione di pochi che vogliono avere in mano tutto il potere per governare molti. Ma se non è stabilito da Dio questo ordine, beh allora si può cambiare. Lo Stato si basa su un accordo in realtà, un accordo tra chi governa e chi è governato, cioè il popolo. È un po' come quando si stabilisce un contratto, non so, un contratto di lavoro, un contratto per acquistare qualcosa. Facciamo un esempio. Se io devo dipingere una parete, mi metterò d'accordo con un imbianchino. Lui mi farà un preventivo, mi proporrà un costo. Io sono libera se accettare oppure no. Se il costo mi va bene, stipuliamo un contratto. Quando però il lavoro è finito, se le mie pareti sono verdi e nel contratto c'era stabilito che avrebbero dovuto essere rosse, questi non sono gli accordi, non sono stati rispettati. Quindi io ho tutto il diritto di rifiutarmi di pagare l'imbianchino perché noi avevamo fatto un contratto e l'imbianchino non l'ha rispettato. Allo stesso modo il governo di uno Stato è come un contratto tra il re e il popolo. Il re deve rispettare il contratto tanto quanto il popolo. Se chi mi governa non rispetta questo contratto, io ho il diritto di ribellarmi. Come fa il re a non rispettare questo accordo? Beh, ad esempio, secondo gli illuministi, calpestando i diritti naturali delle persone. Diritti naturali, cioè diritti che nessuno può togliermi perché sono proprio caratteristici della natura umana, sono dei diritti importantissimi e per gli illuministi i due diritti più importanti sono la libertà personale e l'uguaglianza davanti alla legge. Queste sono le idee nuove che si devono affermare. Secondo gli illuministi, chi non la pensava così viveva nel buio dell'oscurantismo. Privilegi dei nobili, la censura che mi impedisce di scrivere o di dire quello che penso, le persecuzioni religiose, queste per gli illuministi sono idee terribili, vecchie, tipiche di un vecchio regime. Gli illuministi invece volevano un mondo nuovo.